Musica Salve, primo classificato al knockout nel nostro evento, nome e cognome? Cristiano Guidi Hai giocato per? Multigioco Sponsorizzato prima volta o di lungo corso? No, la prima volta Soddisfatto del risultato? Soddisfattissimo È stato duro come torneo? Un torneo lungo, duro, però fortunatamente anche gli altri partecipanti molto simpatici alla mano, non ci sono stati momenti di tensione, è un bel torneo veramente Quindi un'atmosfera che ti è piaciuta? Sì, poi quando si vince l'atmosfera è sempre quella giusta La mano vincente, anche se sappiamo che l'ultima mano è stata un pochettino giocata così come gambler Sì, abbiamo deciso per uno split, ci siamo messi d'accordo e poi abbiamo fatto uno showdown, io 7-4, lui 8-3 mi pare, ha vinto lui 8 carta alta, va bene ma già era tutto deciso Molto bene e anche molto simpatico in amicizia direi Sì, veramente Si erano stretti dei rapporti sul tavolo insomma Sì, sì, anche perché giochiamo insieme da tre giorni veramente, quindi Come sai da comunque un'ottima struttura Giocabilissima, un'ottima struttura e organizzato tutto molto bene, quindi ripeto, quando si vince è tutto eccezionale, però effettivamente è stata una bella organizzazione Molto bene, altri, diciamo, i tuoi prossimi programmi? Adesso il multigioco si è impegnata, appena abbiamo questi accordi per andare avanti, poi vediamo un po', speriamo di ricontinuare così Io ti ringrazio, speriamo di rivederti ai nostri eventi Ti ringrazio Vuoi salutare qualcuno che ti guardava da casa, qualcuno a cui pensi di dover qualcosa? No, devo tanto a tutti, però saluto mia moglie, sono molto contento e ringrazio multigioco perché mi ha dato questa opportunità e anche un'opportunità lavorativa molto importante e quindi va bene così Grazie ancora e speriamo di rivederti presto Grazie